300 grammi di farina tipo 00 due uova e 10 grammi di olio come primo passaggio inseriremo farina olio e uova all'interno del boccale all'inizio per 15 secondi a velocità 5 e una volta terminato per due minuti col tasto sfiga abbiamo ottenuto il nostro composto mettere da parte in una terrina e lo lasceremo a riposo per almeno 15 secondi lo scopo e e e e e Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti!